Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni, anche se oggi non è una lezione perché, vedete, ho una tastiera, ma io non sono né un tastierista né un pianista, semplicemente so fare due accordi giusto per conoscere le basi di un altro strumento. Quindi non è una lezione, ma è un consiglio che voglio dare a tutti quelli che mi hanno chiesto come faccio a creare i miei tappeti, le mie basi per poi studiarci sopra. Allora, dunque, la premessa l'ho già in parte fatta, non sono né un pianista e non sono nemmeno un grosso esperto di software, di programmi, quindi io utilizzo le mie piccolissime e modestissime cose da anni, non cambio mai, quindi un Mac, mi dispiace per chi non ha il sistema della mela, ma io utilizzo questo da anni, quindi se non avete un Mac è un po' inutile che seguite questa lezione, o comunque potete prendere spunti magari per dei programmi simili per Windows o per altri sistemi operativi. Io utilizzo questo perché è quello che, diciamo, utilizzavano, ho sempre utilizzato tutti i miei colleghi musicisti con cui suono, quindi da loro ho imparato quelle poche cose che mi servono per fare appunto delle basi, o comunque degli arrangiamenti, scrivere, spartire, cioè. Allora, come fare un tappeto? Mi è stato chiesto, quindi vediamo un paio di cosette, come creare un semplice tappeto per poi suonarci sopra e magari poi un girettino di accordi un pochino più bellino, diciamo. Allora, cosa serve oltre al Mac? Serve una tasterina MIDI, credo averla pagata 40€ molti anni fa, non so se si vede, se mal metto una foto, carbon 49, collegata con un cavo USB al computer, basta, apro Logic, quindi vado in modalità, registrazione, schermo. Allora, eccoci, apro un nuovo progetto, mettiamo software, instrumento esterno, media, guarda. Mi apre tutta la libreria dei suoni, mettiamo, ad esempio, un pad, quindi vado nei pad, vedete, qui c'è tutti i suoni, eccetera, eccetera, mettiamo un infinity pad, mi guarda, ma. Allora, impostato il suono, vado a vedere se suona, così. Quindi, qui in questa piccola parte dello schermo, cioè, ci sono varie impostazioni come tempo, non siamo conto, vogliamo fare una ballad o qualcosa del genere, mettiamo 70 bpm. Qui può scegliere la tonalità, eccetera, eccetera, quindi, 70 bpm. E la prima cosa che faccio, di solito, mi serve una batteria, perché crearla con la tastiera ci perdo tempo, scriverla ci perdo ancora di più tempo, quindi abbiamo questa bellissima libreria che ci dà logic, libreria di suoni, di loop, di tutto, di tutto, che si può scegliere anche lo strumento, delle loop, delle tracce, insomma, vedete, quanto ce n'è, il genere addirittura, quindi se vuoi fare una base funk, vado subito alla sezione funk, eccetera, descrizione, insomma, molte cosette interessanti, può addirittura il tempo, la tonalità, eccetera, eccetera. Allora, io, abbiamo detto, vogliamo fare una ballad, quindi prenderei una semplicissima batteria, vado nelle batterie, scelgo per il tempo, qualcosa di semplice, vediamo se, se ci pigiate sopra vi fa sentire come suono, vediamo questa, il son, ci perde troppo tempo. Diciamo che ci piace questa, la importiamo nel nostro progettino, qui in realtà si può decidere tantissime cose, quindi come far suonare proprio la batteria, più o meno complessa, che elementi far suonare, colpi di cassa, eccetera, eccetera. Vado a sentire se l'ho messa alla mia velocità, quindi a 70, ok. Chiudo un attimo questo, visto che è un loop, posso questa funzione mettere, diciamo, all'infinito, così tanto si ripete quella traccettina iniziale. e poi vado a crearmi il mio pad, quindi mando la base e ci sono sopra. Facciamo un pad di do minore settimo. Vado, no, registrare. Facciamo un pad di do minore settimane. Facciamo un pad di do minore settimane. Posso copiare e rincollare la mia parte, vado a sentire se funziona. Scelgo poi la parte, magari, che ho suonato meglio, comunque interessante, e la copio e l'incollo. Quindi, questo è esattamente quello che faccio per creare pad. Poi, se voglio aggiungere qualche traccia, una chitarrina, un pianofortino molto semplice e il ragionamento è lo stesso. Se voglio, ad esempio, fare qualcosa di un pochino più elaborato, oggi però non vado in altri ceneri, ma mi limito a far vedere qualche accordo, perché non mi dilungo troppo. Quindi, rimaniamo con questa base di batteria. Decidiamo un giro di accordi. Andiamo sul semplice, perché son col piano, poi mi incasino. Do maggiore, sol basso sì, si bemolle maggiore, e fa maggiore un basso da la mia scrittura, bellissima. Diciamo che vogliamo fare una base con questi quattro accordi, che si ripetono. Quindi, tolgo il mio pad, metto un pianoforte, perché decido che sono diventato un pianista tutto insieme. Mettiamo Stainway, gran piano, vedete, c'è tutti i suoni, quindi sto a spiegarvi, se no, non basta una lezione. Allora, vado a creare il mio gilettino di pianoforte sulla base di prima, con questi accordi. Vediamo che combino. Una volta che ho registrato queste quattro battute, vado a sentire se le ho suonate bene. Posso anche aprire, diciamo, lo spartito di quello che ho suonato. Andiamo a prima... Ha una prima controllata, mi sembra che più o meno... È molto semplice, ma... E andiamo a sentire cos'è venuto fuori. Sì, ok, pazza batteria che scambia dove non dovrebbe, però facciamo finta che vada bene. Vado a raggiungere un'arco, un violino, vediamo. Allora, vado a cercare nella libreria dei suoni. Orchestra. Facciamo strings. Full string. Ok, dovrebbero essere accettabili. Allungo la mia traccia pianoforte. Ho fatto prima quella batteria. Vado a registrare qualcosa sopra a quello che ho fatto prima. Questa è la prima traccia. Facciamo noi un'altra a volo. Sempre molto molto semplice perché, ragazzi, purtroppo... Sono un pianista. Mettiamo un bel bioncello. E va aperto. Ci registro nuovamente sopra, magari, una salina. Questa, non? Una, due, tre, forte. Grazie a tutti A risentire Questa già potrebbe essere la mia base finale Quindi metto un loop, quattro battute Poi vado a sportare il mio mp3 Faccio della durata che voglio E ho una base Quindi ragazzi sono rimasto molto molto nel semplice Anche perché comunque si tratta di basi semplici Quelle che faccio io A volte un pochino più complicate Se faccio roba un po' più fancheggiante Un po' più gezzata Questo è quello che utilizzo per fare semplici tappeti Senza perdere troppo tempo Poi ci serve a cercare suoni Ma quello si fa quando A volte dobbiamo Arrangiare i brani O fare delle cose un po' più serie Per lavoro Allora cerco suoni Mi studio le parti Eccetera eccetera Però per fare dei tappeti così Diciamo al volo Mi limito a queste funzioni qui Però se avete giustamente direi dubbi O volete approfondire un pochino di più Basta scrivermelo E io vedo di fare altre lezioncine Chiamiamole così Anche su come creare le basi Quindi per ora vi saluto E ci vediamo al prossimo video